I cecoli sarebbero rimasti lì, giù sì dentro, pieni di paura, e invece no. C'è Lui, il risorto, viene e sta, si fa vedere. E come lo possono riconoscere se non con i segni del suo amore? Nella sua carne ci sono i segni dell'amore, l'amore trafitto, l'amore crocifisso. Gesù ci ha amato fino al dono della vita e questo è il risultato.